Qual è il futuro del vostro termovalorizzatore? Il futuro del termovalorizzatore di Livorno è la chiusura, il superamento. Noi l'abbiamo detto sin dall'inizio, sin dal 2019, e intendiamo procedere in quella direzione. Quando lo abbiamo detto la prima volta, anche siglando un patto con rifiuti zero, avevamo detto, allegando a questo patto una nota molto ben precisa, che il superamento doveva avvenire quando non c'erano rischi per i lavoratori, quando l'equilibrio di bilancio di AMSA era garantito, e quando il ciclo dei rifiuti nell'ambito del lato costa era ulteriormente garantito e non aveva problemi. E noi guardiamo a questi tre elementi per decidere adesso quando chiudere l'inceneritore. Se noi possiamo farlo entro il 2023, perché ci sono queste condizioni, noi procediamo, perché quello è il destino. Se questo non è e occorre per vari motivi di attendere altri impianti che danno la possibilità di chiudere il ciclo dei rifiuti, lo valuteremo. Come valuteremo il costo di adeguamento dell'impianto attuale? Non lo valuteremo noi, ma lo valuterà il Reti Ambiente, che di fronte ad una cifra spropositata per un impianto che è a fine vita, farà le sue valutazioni economico-finanziarie per dire sì, ci conviene, oppure andiamo al superamento. Quindi la proroga che avete chiesto sul fronte dell'autorizzazione ambientale è in funzione di questo, è una proroga tecnica? È una proroga tecnica, con conseguente conferenza dei servizi, con i tecnici che ci diranno in maniera chiara di che cosa ha bisogno questo impianto per andare avanti un altro po'. Se quello di cui ha bisogno prevede cifre non ammortizzabili in tempi stretti, non ci sono vie di uscita. Viceversa, se c'è una soluzione che ci permette di gestire bene le tre condizioni che io ho detto all'inizio, procederemo in questo senso. Mi sembra che è un atteggiamento di buonsenso, perché è facile dire superiamo o non superiamo. Se doveva essere una promessa elettorale non avrei neanche allegato la lettera nella quale dicevo a patto che in realtà qui ci vuole lo spirito di buonsenso per non fare quello che vuol spengere ad ogni costo e poi magari trovarsi con l'azienda in affanno alla canna del gas tre mesi dopo.